Con questi carciofi vi sembrerà di essere nel ghetto ebraico di Roma Carciofi alla giudia, un nome, una poesia Segui molto food e vieni con me in cucina a prepararli Carciofi più adatti sono i romaneschi, anche detti mammule I stessi che usiamo per i carciofi alla romana Li andiamo a pulire per bene, levando tutte le foglie più esterne e andando a rifilare il gambo Andiamo a levare anche la barbetta interna e li apriamo leggermente La cottura prevede una doppia frittura La prima a circa 150 gradi per 10 minuti Poi lasciamo scolare e asciugare un pochino il carciofo E guardate già che bel fiore che si è creato E andiamo a friggere questa volta a 180 gradi facendo una lieve pressione verso il basso In questo modo il carciofo assumerà la forma di un fiore Quando i pedali saranno belli croccanti possiamo servire il carciofo alla giudia con un pizzico di sale